Cari amanti del mare, vi odio! Mi fate svegliare all'alba e già non vi sopporto. Arrivate in spiaggia, mettete l'asciugamano e poi... ...sulla sabbia rovente, sotto il sole, picchiati dai 47 gradi intorno a voi... ...come potete pretendere che io mi rilassi? Secondo voi sono io lo strano. O siete voi che partite dal comodo letto di casa vostra per andare a sdraiarvi per terra su delle pietre, soffrire, facendo finta che il tutto sia rilassante? Qual è la parte che più vi rilassa esattamente? I bambini che urlano, la sabbia nel costume, i 7000 gradi... Eh, ma c'è il mare! Il mare? L'acqua è gelida, sporca e gelida. Entro per farmi un bagno in tranquillità e con il piede scontro sassi, pesci, alghe, meduse, mostri, mio padre, un sottomarino, un elicottero e Poseidone. E vi devo ricordare le facce che hai fatto ogni volta che entrate in acqua? Uh, è fredda! Uh, uh! Io ti ci affogo nell'acqua fredda. Andate pure ad abbronzarvi. Netflix, gelato, ventilatore e ci vediamo a settembre. Ciao!